È stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'urbanistica Marco Scaiola il documento preliminare che porterà all'approvazione, dopo 30 anni di attesa, del piano paesaggistico regionale. Il documento è il primo risultato del gruppo di lavoro costituito dalla Regione, insieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per dare il via ad una vera e propria cabina di regia tecnica e comprende lo schema di piano nel rapporto preliminare per la via della fase di valutazione ambientale strategica. L'attuale piano paesistico è in vigore dal 1990 e si tratta di uno strumento di tutela e promozione del paesaggio ligure, per regolarne le trasformazioni e sostenere il ruolo strategico per lo sviluppo del territorio, proteggere i luoghi di eccellenza e favorire le creazioni di nuovi paesaggi di qualità.